Dimenticavo e mi scuso, Assi Digitali, che è il nostro Presidente Michele Picard, organizza un'iniziativa alle 18 maggiori corpore del giorno, per il 4 ottobre, e anche questa è molto coerente a quello che abbiamo raccontato fino ad oggi perché toccherà i temi della comunicazione digitale e prima foto con noi. E quindi è un'altra cosa sulla quale noi siamo molto sensibili e sono contento di classi digitali, in maniera incontritoriale.